Dulcis in fundo, la parte conclusiva di questa mia comunicazione è la festa del soccorso. Voi sapete che la festa del soccorso è una nostra tradizione, la nostra mamma celeste. Ecco, io ho questa bellissima immagine qui sul mio tavolo che vi voglio dimostrare. Ringrazio anche la ditta Bendivegna, la ditta Sergio Romano per aver voluto esporre sulla facciata del municipio una gigantografia della nostra Vergine. Quest'anno è andata così, quest'anno purtroppo a cagione del virus le celebrazioni che accompagnano i nostri festeggiamenti si svolgono in misura molto ridotta. E per, voglio dire, per responsabilità di nessuno, perché nessuno di noi, o il sindaco, o il vescovo, o chi che sia, è responsabile del fatto che è scoppiata la pandemia. Questo significa che, ancora una volta, l'invito è a tutti alla responsabilità, alla calma, alla tranquillità. Voi sapete, sino a domenica 17 maggio, le funzioni liturgiche sono vietate. Quindi è evidente che chiedere di aprire le chiese domenica 17 maggio, quando vi è una disposizione che le chiude, è una richiesta irricevibile, che non può essere fatta. Quindi i festeggiamenti, nella giornata di domani, saranno rispettosi di quelle che sono le regole. E quindi ci sarà questo omaggio floreale che il sindaco farà alla Madonna del Soccorso, in rappresentanza dell'intera cittadinanza sanseverese. Omaggio floreale che è la richiesta di aiutarci. Il popolo sanseverese spesso, nei momenti di grandi difficoltà, siccità, terremoti, si è rivolta alla Madonna del Soccorso. Ha chiesto aiuto. Io domani mattina farò questo omaggio floreale alla Madonna. Quell'omaggio floreale sarà la richiesta di aiuto di ognuno di voi, di ogni sanseverese. Di quei sanseveresi che hanno perso qualche congiunto in questo periodo, magari a causa anche della pandemia, magari anche a causa del Covid-19. A quei sanseveresi che avevano programmato la propria attività, alcuni anche da qualche tempo, avevano aperto da poco, e che invece sono stati costretti a chiudere e star fermi per due mesi, che la Madonna aiuti tutti quanti noi. Aiuti, consentitemi anche il sindaco, a svolgere questo ruolo con la massima responsabilità e massimo senso di servizio rispetto alla cittadinanza. Chiederò anche questo. Chiederò di ispirare ogni nostra azione e ogni nostra attività. Di fare in modo che ora più che mai il ruolo di amministratore pubblico sia ispirato da una logica di servizio. Io oggi mi sento il servitore di ognuno di voi. Molti mi chiamano, molti mi scrivono, anche per questioni banali, qualcuno si scusa perché dice capisco che in questo momento probabilmente avrai mille cose a cui pensare, però te lo dico. A questo cittadino dico non preoccuparti, anche una questione che a te può sembrare banale, me la sottoponi. Io laddove posso insieme ai miei collaboratori, insieme agli altri amministratori, operare, dare una mano, lo faccio ben volentieri. Quindi domani ci sarà questo omaggio floreale, dopodiché ci sarà questa celebrazione liturgica a porte chiuse. Diversamente non si può fare, alla luce di questa disposizione. Ognuno di voi la potrà seguire in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi di Sansevero. Tra l'altro ci sarà nella giornata di domani anche in filodiffusione la Santa Messa, quindi anche i cittadini passeggiando nelle vie cittadine della nostra città potranno ascoltare la preghiera e la Santa Messa ufficiata da Don Gianni, dal nostro Vescovo, col canale della filodiffusione che pur abbiamo utilizzato in queste settimane per le varie informazioni di servizio alla cittadinanza, nella giornata di domani sarà in filodiffusione appunto questa celebrazione liturgica e in più anche i pezzi bandistici che appartengono alla tradizione della festa del soccorso. Tra l'altro, e faccio un passo indietro, prima della celebrazione liturgica, prima della Santa Messa, l'orchestra dei fiati città di Sansevero, diretta dal maestro Antonello Ciccone, prima dell'inizio della celebrazione liturgica, appunto eseguirà dei pezzi che sono propri della nostra processione, che accompagnano la Madonna del Soccorso nel percorso processionale e che in ognuno di noi rievocano appunto la terza domenica di maggio. Nella giornata di domani, sempre domani alle ore 12.30, ho qui la comunicazione e li ringrazio di questi, l'associazione Fuyenti appunto alle 12.30 organizza un flash mob che consisterà praticamente ognuno di noi, ogni cittadino sanseverese dal palcone della propria abitazione appunto canterà l'Ave Maria. Ecco, leggo l'associazione, vista l'emergenza sanitaria che non permette il secolare e tradizionale svolgimento dei consueti di festeggiamenti lancia il flash mob sulle note dell'Ave Maria che verrà accompagnato dal lancio di palloncini. Quindi alle 12.30 ognuno di noi sui balconi della propria abitazione canterà l'Ave Maria e potrà lanciare appunto, far partire dei palloncini. Voglio ringraziare anche i Fuyenti in questo momento, loro sono molto attaccati alle tradizioni come tutti quanti noi, sono un sodalizio che si è consolidato in questi anni rispetto alla salvaguardia di questa bella tradizione secolare delle batterie e devo dire che in questo momento stanno assumendo un atteggiamento di grande responsabilità e questo comunicato stampa che mi è arrivato nella giornata di ieri sta a testimoniare appunto un approccio molto responsabile da parte loro. Quindi l'invito a tutti i cittadini di San Severo di prendere parte alle 12.30 di domani mattina a questo flash mob. Polnino sul proprio balcone lancia qualche palloncino e canta l'Ave Maria chiedendo alla Madonna di aiutarci, di starci vicino in questo momento, di non farci trasportare dal sentimento di rassegnazione, di sfiducia, di scoramento. Molti di voi nei contatti che stiamo avendo in queste settimane, in questi giorni, sono molto sfiduciati. La situazione è molto difficile, dire straordinaria è dire un aggettivo riduttivo, è una situazione di grandissima difficoltà. Cerchiamo di essere coesi, cerchiamo in questo momento di fare corpo unico, di non disperderci magari in polemiche, magari in cose che non servono. Cerchiamo invece di essere uniti nella responsabilità e di venire tutti fuori da questa maledetta emergenza sanitaria. Se così sarà, se ci sarà questa responsabilità, sicuramente verremo fuori quanto prima da questa emergenza sanitaria e nel momento in cui ciò avverrà riprenderemo ogni ragionamento, anche quello dei festeggiamenti non fatti magari. Da questo punto di vista, se veniamo fuori da questa situazione, perché no? Perché riprendere qualche ragionamento interrotto? Tuttavia, se invece i dati riprenderanno ad essere negativi, volenti o nolenti, non potrà che andare così, continuare ad andare così. Per la giornata di lunedì ci sarà anche qui una celebrazione liturgica nel santuario del soccorso, anche qui una messa ufficiata dal nostro Vescovo, da Don Gianni, che potrete seguire sul canale di Teleblu, Teleblu di Foggia, su questa emittente televisiva, al canale 72 del Digitale Terrestre. Quindi anche lì si potrà seguire la celebrazione liturgica. Perché non si è aperto? Innanzitutto perché le disposizioni sono abbastanza rigorose nel rispetto delle distanze, nel rispetto di determinate regole. E il santuario, che è grande ma non grandissimo, si poneva in una situazione di difficoltà a poter accogliere tutti nel rispetto delle regole. E allora, anche qui, responsabilità, collaborazione, comprensione. La Madonna lo apprezzerà. La Madonna, secondo me, sono convinto che questo atteggiamento lo apprezza e lo premia. Lunedì la celebrazione liturgica la seguiamo tutti sul canale di Teleblu. Cari cittadini di San Sero, che dirvi? Buona festa del soccorso, in questa maniera inusuale. Tra l'altro voglio ringraziare anche il professor Emanuele D'Angelo, che su sollecitazione di qualche amico mi ha fatto una breve cronistoria, diciamo, delle celebrazioni della festa dell'unità, dell'unità, del soccorso. E devo dire che da queste note storiche emerge che la festa del soccorso mai aveva registrato lo stop che invece registriamo quest'anno. Ed è questo un fatto molto triste. E però ne verremo fuori. Ne verremo fuori e la festa che ritornerà ad essere la bella festa che noi conosciamo. I festeggiamenti torneranno ad essere i festeggiamenti allegri, accompagnati dal furor di popolo e dalle batterie, dalle belle tradizioni che negli anni si sono consolidati e che noi abbiamo salvaguardato. Quest'anno è andato così, una scelta del Padre Eterno. Sapremo farne tesoro e sapremo comunque rivolgere alla Madonna una preghiera perché aiuti tutti quanti, dal primo cittadino, dal sindaco, sino a ognuno di voi. E che ogni vostra richiesta e ogni vostro pensiero possa trovare ascolto dalla Madonna e possa essere esaudito. Questo è l'augurio che io rivolgo a ognuno di voi. Che ogni vostra speranza, ogni vostro sogno, quello che avete nel cuore, possa concretizzarsi e diventare realtà con l'aiuto della Madonna del Soccorso. Buona festa patronale a tutti!